Ciao Roberto Casareggio, lo conobbi a Milano perché io ero tornato dall'America Latina ed era anche un periodo un po' complicato della mia vita, avevo trent'anni e cercavo la strada professionale, io volevo scrivere, fare reportage, scrivere di geopolitica, di diritti mondiali e al che tornato appunto a Roma iniziai a mandare gli articoli che avevo scritto in America Latina un po' in giro e nessuno mi si filava mai, fino a che lo inviai anche un pezzo che avevo scritto alla Casareggio Associati perché mi avevano dato, un attivista del movimento mi aveva dato un indirizzo di un ragazzo che lavorava alla Casareggio Associati, mi dissero appunto che la Casareggio Associati si occupava anche del blog di Beppe Grillo per cui io ero super fan di Beppe Grillo e pensai io lo invio sperando in una pubblicazione e passarono alcuni giorni e ricevetti un'email dalla Casareggio Associati con scritto questo articolo andrà sul blog di Beppe Grillo con un commento di Beppe Grillo io fui super contento. Dopo qualche giorno pensai il pezzo ha avuto anche abbastanza successo, era stato letto, ho avuto un sacco di commenti positivi, quindi riscrissi di nuovo alla Casareggio Associati proprio proponendomi, io ho queste idee, ho fatto queste inchieste sugli assassini a pagamento, sul diritto all'alimentazione, sui diritti delle comunità indigene eccetera eccetera mi piacerebbe collaborare, insomma il mio sogno era ritornare in America Latina e scrivere al che ricevetti un'altra email con una convocazione sua a Milano con scritto già Roberto Casareggio vorrebbe incontrarti, io in quel momento non sapevo neanche chi fosse già Roberto Casareggio quindi andai su internet e vidi il suo volto, questi capelli da pazzoide e ricordo che questa persona della Casareggio Associati mi disse facci sapere quando puoi salire che ti inviamo il biglietto del treno. Sembra un particolare di poco conto però questo fa parte proprio della persona di Gian Roberto, il rispetto che aveva dei lavoratori o anche dei giovani perché a me non mi si filava nessuno e invece Gian Roberto Casareggio mi volle incontrare per ascoltare le mie idee e in più l'idea appunto era pagarmi il viaggio insomma non dovevo spendere io quei 70 euro di biglietto del treno. Quindi andai su a Milano per la prima volta poi fu tante volte tornai negli uffici della Casareggio Associati vicino via Monte Napoleone e io li passai per via a Monte Napoleone, credo che a Milano c'ero stato soltanto un paio di volte a vedere la Lazio, poi sempre zona San Siro e arrivai nell'ufficio e entrai nella stanza degli incontri, mi sei detti, dopo un po' entrò Gian Roberto che me lo ricordo perfettamente, si è seduto davanti a me, ha spento il cellulare e mi ha detto parlami delle tue idee e è stato un quarto d'ora in silenzio da ascoltare. Questi silenzi di Gian Roberto sono, saranno poi, me li ricordo come una caratteristica che c'è sempre stata nei suoi silenzi c'era l'ascolto e il rispetto. Ricordo insomma che parlai un quarto d'ora delle mie idee e lui non annuiva, non mi dava ah, non lo so, io non pensavo, gli staranno piacendo, non gli staranno piacendo. Dopo un po' disse grazie e se ne andò e io pure tornai a Roma. Ricordo tra i momenti più felici della mia vita c'è stato proprio quel ritorno da Milano a Roma perché chiamai mia mamma che poi è recentemente scomparsa dello stesso mare di Gian Roberto e le dissi che era andato bene l'incontro che forse avrei avuto un'opportunità e questa cosa io gliela devo tanto a Gian Roberto perché mi ha dato un'opportunità, la più grande della mia vita me l'ha data lui, quella di poter scrivere, scrivere un libro poi sui sicari a pagamento in America Latina, io non avevo mai scritto un libro poi sono riuscito a scriverne degli altri e quindi per me Gian Roberto è stata una delle persone più importanti della mia vita proprio perché fu la prima persona a darmi una grande opportunità e a fidarsi di alcune mie qualità soltanto in virtù di 15 minuti di ascolto e quindi li devo tanto e dato che li devo tanto io ho buona memoria e anche il senso della riconoscenza ogni qual volta ho dovuto prendere anche delle decisioni anche non semplici e fare delle rinunce seguendo le mie idee, la mia correnza, comunque le mie opinioni, io mi sono sempre ricordato del suo esempio e ho sempre preso le decisioni anche un pochino per fare felice lui dovunque lui sia. Descriverei Gian Roberto con una persona onesta intellettualmente ed è anche la ragione per la quale è stato così tanto contrastato perché l'onesta intellettuale fa molto paura, spaventa coloro che non ne sono all'altezza, che non ne hanno a sufficienza e Gian Roberto era veramente onesto intellettualmente, sapeva chiedere scusa, sapeva dire ho sbagliato, sapeva ascoltare. Io ricordo telefonate lunghissime con lui, io parlavo e lui ascoltava e non interrompeva mai le mie frasi, le mie parole, veniva descritto come un uomo non so se burbero, comunque accentratore, antidemocratico, tutto l'opposto. Mi capitava di stare a parlare e dato che non sentivo cenni dall'altra parte della cornetta, pensavo probabilmente è caduta la linea, invece stava soltanto ascoltando. E per lui ascoltare era un esercizio, non era una pausa da prendere prima di avere l'opportunità di parlare. No, no, era un suo tratto distintivo con l'ascolto. Beh, senz'altro sono state speciali le sue idee e le opportunità che hanno dato a milioni di persone. Credo che la qualità più grande di Gian Roberto fosse saper far crescere le persone che aveva intorno, saper cambiare la vita delle persone che aveva intorno, perché ha cambiato la vita veramente a decine di migliaia di persone. Sì, non è un... non so perché mi è venuto in mente, perché sono tanti i ricordi che ho di lui. Però, insomma, forse un ricordo che ho non felice perché ci fu durante la camera ardente. Ricordo i volti dei dipendenti della caseleggia associati, quando entrammo io, Beppe Grillo, quelli, insomma, i membri del direttorio. Entrammo e loro, non so perché si fecero da parte, forse per darci la possibilità di salutarlo, e si misero seduti nelle sedi della camera ardente. Ricordo i volti di questi ragazzi. Si leggeva non soltanto il dolore, ma la gratitudine, perché poi vanno di pari passo. Non so se sia stato travisato un pensiero in particolare. È stato travisato lui, nel senso che hanno voluto sempre provare a cercare dietro le sue azioni dei secondi fini, personali e utilitaristici. Invece non c'erano, e io ne sono testimone oculare che non ci fossero. Tutto quel che ha fatto, l'ha fatto per le sue idee, per gli altri, per dare una possibilità di giustizia sociale al nostro paese così tanto bistrattato, e non per avere qualcosa indietro lui, personalmente. Enorme, perché tante cose forse non ce ne rendiamo neanche conto, perché siamo ancora in mezzo allo sviluppo delle sue idee. Però credo che non sia mai avvenuto nella storia delle democrazie occidentali, appunto un'entrata così vigorosa e numerosa di centinaia, migliaia di persone nelle istituzioni, da sconosciuti, senza denaro pubblico a disposizione, senza enormi mezzi non soltanto economici, ma anche mediatici a disposizione. Quindi credo che questo sia qualcosa di incredibilmente rivoluzionario che ha portato avanti e che mi auguro che possa restare, in che forma, in che luogo, in che modalità staremo a vedere. Decine di volte, una rigidità le volte eccessiva sul, diciamo, sull'utilizzo o meno del sistema televisivo, una rigidità nei confronti di alcuni sbagli che poteva commettere qualcuno. Però lì per lì, perché poi con il seno del poi, ragionando e guardandomi indietro, penso che anche moltissime cose per le quali io ci ho anche discusso, già Roberto, telefonate e finite con cornette abbassate due o tre settimane in cui non ci sentivamo perché eravamo incazzati l'uno con l'altro. Però in realtà, un pochino come avviene forse ai figli quando crescono, diventano padri, tante cose le ho capite soltanto successivamente. Perché già Roberto era una persona che ti dava tutto quel che aveva, era estremamente onesto e soprattutto si fidava. Quando la fiducia veniva meno, poi era difficile recuperare, però. aveva una cultura veramente notevole. Già Roberto era un grande lettore e le sue letture spaziavano da Gengiz Can a Tex Wheeler. Era appassionato di politica e calcio, di umanità e panini alla senape. e credo che... non so se lui abbia avuto veramente dei personaggi storici di grande, grande ispirazione. In realtà quando ci incontravamo spesso e volentieri mi citava il tassista con il quale aveva parlato o il fruttivendolo sotto casa. Perché poi era un intellettuale, perché poi già Roberto è stato un intellettuale, come pochi secondo me ce ne sono stati negli ultimi decenni, che sapeva sempre trasformare la cultura e il pensiero in azione. Anche perché probabilmente per lui la cultura e il pensiero fine a se stesso ha poco valore. Per cui penso che il massimo ispiratore di Geroberto sia stato l'essere umano in sé, con tutte e con tutti i suoi limiti. Sì, quella di combattere la politica professionista. Perché io poi ci sono stato cinque anni nel palazzo e sono dell'idea che se ci stai troppo tempo in quel palazzo la contaminazione non è più un rischio ma è la certezza. Perché la politica è molto subdola, ha a che fare con il consenso e con il controllo, spesso il controllo del consenso. Ti fa innamorare più del posto che hai, che delle idee grazie alle quali sei arrivato al posto che hai ottenuto. Per cui penso che la più grande idea che sembra oggi in controtendenza perché siamo ancora una volta alla ricerca di leadership. Poi la leadership non significa avere dei capi, significa cercare la leadership, significa cercare i carismi di tante persone e metterli assieme. Ecco, la più grande rivoluzione del pensiero di Geroberto è stata quella appunto di combattere la politica professionista. Perché per me, che ho fatto la politica e se avessi preso delle altre decisioni mi sarei potuto trasformare in un politico di professione, la politica resta un'attività splendida, anche professionale ma limitata nel tempo. Spesso dovrebbe essere volontaria e per me non può diventare il lavoro di una vita. La cosa più forte che faceva Geroberto era, perlomeno quello che ci diceva, perché poi non lo so intimamente come reagisse alla valanga di infamità che sono state dette scritte su di lui. Però lui sostanzialmente mi consigliava sempre di infischiarmene totalmente delle malignità, ma di volare alto e di andare avanti per la mia strada senza aver timore di quel che qualcuno dicesse o meno su di me. Io ricordo un'intervista che lui fece a Lucia Annunziata, se non sbaglio, in cui parlò della necessità di costruire un paese sovrano. Oggi come oggi la parola sovranità è stata quasi sbilita da politici che fanno finta di essere sovranisti. Sovranità significa indipendenza, significa riuscire a costruire un paese il più possibile autonomo sotto vari punti di vista, che possa decidere il proprio sviluppo in modo appunto autonomo. Geroberto fondamentalmente voleva costruire questo. E riflettendo anche su come sono andati in questi anni, io penso che la democrazia diretta, ovvero il supporto popolare intorno a quello che penso in maniera limitata nel tempo debba essere il potere, sia il modo migliore per migliorare il potere stesso. Mi spiego meglio, ci sono delle decisioni che i politici non riescono a prendere per timore di prenderle, per timore degli attacchi mediatici, per timore di determinate conseguenze. Ecco, in questo senso la possibilità di far sì che sia il popolo a prendere determinate decisioni, quindi sviluppare sempre più strumenti di democrazia diretta. Il referendum di fatto è uno strumento costituzionale che conferisce ai cittadini la possibilità di scelta. Ecco, sia il miglior modo anche per ridare il coraggio ai politici che il coraggio lo perdono giorno dopo giorno all'interno dei palazzi del potere. Mi piacerebbe approfittare di questo spazio per dirgli che gli ho voluto tanto bene perché non gliel'ho mai detto, perché poi non è semplice dire alle persone ti voglio bene, ancor di meno non è facile per me e non era facile dirlo a Gianroberto. però ecco, quello che mi piacerebbe dire è che gli ho voluto veramente tanto bene come ad un amico caro, tra i più cari, ad una persona come fosse stato della mia famiglia e soprattutto ad una persona che per me ha fatto la storia di questo paese.